musica non ci capiscono non si capisce con questa mappa ormai hanno messo troppi elementi in questi giochi tu quindi non capisci veramente cosa stai sparando, cosa vedi non vedi? prima le mappe erano pulite erano praticamente stanze vuote il nemico era lì, ecco te lo davanti sparagli bene e così lo killgli ora io te lo giuro cominciare a sparare ai gommoni a... così magari no, alle ruote insomma banna, banna, banna banniamo, blocchiamo intendevo i gommoni, con gommoni intendevo la gomma della macchina, le ruote, queste ho sbagliato termine non devo permettere mai di sparare a dei gommoni e questo è subito clip